però è uscita dopo ok ci siamo siamo arena si si aspetta non mi fa neanche mettere arena è arrivato metti vabbè arriva sicuramente il ritorno non è istantaneo ma tu c'hai il gioco che non usate? si più carino secondo me perché su switch non si può? no no si può si può mettere anche tutta la switch vabbè quello in tutti i casi però pensavo no no l'avevo messo in giapponese prima che era necessario mettere la lingua giapponese mi sei riuscito a toglierlo sei un grande sì vabbè ovvio io 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 c'è Roberto Balano prima l'ho visto online Balano ma è online tutti i giorni tutti i giorni tutte le ore no ma adesso è live non si vede metà gioco serio? oh fuck è vero perché aspetta god damn man aspetta perché avevo anche 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 me anche vai ora si vede tutte le ore veramente io ti lascio acceso infatti appena accendo vedo sempre il ravino di battagliare all'ostante l'aperta quel bravo andiamo questo lendo aspetta dov'era qua 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 ti seguo andiamo allo scuolo ok allo scuolo dia drago che ancora perché no chi è che l'ha scritto l'ha scritto Robert ma si scherzerà l'ho scritto rumeno perché avevo 18 di ping la sera di solito ne ho 30 cioè oltre voglio più ping la sera perché oggi ero solo in lobby e basta ah ah voleva la tua compagnia voleva la tua la tua presenza voleva che bibi che sei oh però si vede bene la live Luca secondo te sì la stavo seguendo peccato che ho chiuso a youtube vabbè si si vede abbastanza bene non l'ho messo neanche almas comunque arrivo basso frate metterlo qua che c'è una cesta idem il pod what mi corre all'infinito il pod frate ma il mio pod è morto il pod mi corre perché mi sono mi sono travestito si può essere travestimenti dopo si appena spari un colpo si trovano però l'importante è che non ti credono gli scagnozzi quindi è perfetto quindi con questo basso inosservato esatto basta che non spari gli scagnozzi questo dovrebbe questo in teoria ci porta infatti entro con te ci porta direttamente lì dentro mi sa che non giocherò più a fornit per le cuffie a nero un troll e lo scildino fra è un pump andamosi andamosi inosservati inosservate di sparare a nessuno sai la tattica ricorda non so nulla bello ma non te la ricordi la tattica si entriamo da qua sotto spacchiamo tutto prendiamo lo scar e ci andiamo aspettate che ci viene io sono travestita quindi potrei passare in mezzo senza saperne e poi l'ho vista è davanti a me non mi ha visto è scema è qua ah fa che è vero ho fatto uno fammi portare via l'ult ma no c'era gente c'era gente mi sa si c'era gente è stato ucciso? dimmi se muore quasi no 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 mi ha ucciso no sono due sono due scappa scappa fai bene no c'è che qua ti possono arrivare anche col bagno del 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 vaffangulo vabbè li affronto sono un manio ma si che ti frega che mi frega li rifacciamo in due secondi con zonfo dai c'è albero guarda guarda è una live tolgo il volume tranquillo live non mi trovo vabbè io li pusho va tanto eh vaffangulo va lo sapevo si vabbè ho detto forza ma quanta gente c'è ah non sono tutti scannati guarda le notifiche no non sto usando daltonismo non sa manco le H non sa manco metterle H ha scritto D a drago che è un boh io devo ancora scaldarmi appena acceso ma si senti chi è blot ah è sempre lui blot 30 ah no sei te blot 30 bro blot che name è blu più 8 devi lasciarmi non like però che mi fai felice no io te l'ho già lasciato mi fai felice è bello ma te l'ho già lasciato allora devo riaggiornare la pagina tanto 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 vediamo un attimo quanto sta occupando il mio computer prima che mi esplode beh là 100% mi dicono eh dalla regia sta esplodendo il pc ma noi proseguiamo stai esito si tanto mi chiudo le cose mi chiudo il racer cortex dai dimmi dove andare fa un ping un coso lontano si un come cacchio si chiama un land lontano un coso lontano potrebbe essere un coso lontano io qua ma come non sto scherzando fra c'è fra scusa hai ragione mi perdo mi perdo vantaggio c'è 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 user ho già le cipolle ah user ah oppure un spano stai c'è 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 ho fatto un 22 bianco lì ho l'arbre blu io sono morto perché non è la merda non so dove sono ecco che cazzo ma frate sei fattissimo fatto come la merda dimmi che i tuoi i i i i non guardano le tuoi live sai che l'ho appena inoltrata vabbè ovviamente è scherzato ahahah tutti i tuoi love isn't your lucky day bro ok in inglese fa un po schifo al momento però vabbè ho fatto bro addio addio almeno lì mi sento zik 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 perché hai fatto saltare il palazzo in aria bro ti do un ocellino non è saltato in aria vuoi una r verde vabbè adesso dai mi prendi un po di più bisogna di un po qualcosa che sulla r a niente l'ho chiamata bro trovato trovato vieni su che ti lascio la r verde bro ho 50 colpi a r e tieni questo scelta non ho colpi a r mi dispiace non sono 126 me ne dai 10 e io ne 100 vuoi qualcosa no ne ho 102 ok ma se andassimo a pushare i tipi eh boh sai come vuoi perché me la tengo io verso di là arrivano gli spari io ho pure la fioscina se non guardo se non guardo quando mi guardo se mai devo avere mazzi prima per pushare ma io non botto non è vero però vabbè ok li sento vicino a me salgo li sento vicino a te si sono qua sotto replicciamo replicciamo oh fuck eh no c'è sta roba qua mi savo ci fosse qualcosa mi sa che escono da qua non scendere li stiamo sopra no 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 bro non stavo scendendo mi chiede se magari non mi butti giù in cima a loro fra ho 200 massi in totale eh io ho 100 qualcosa vabbè mi fermo da qua oh li sento li sento li sento aspetta non sembrano forti probabilmente non hanno vita o neanche loot eh là piedi l'arbre blu sorry che culo bofrasco scappare secondo me oppure stanno ancora camperando ai bella bianca borio perché è scritto ai cola y sei te o sono loro non lo so non so eh no 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 adesso camminare sono loro per vedere i passi vero sì sì perché non te lo metti perché mi dà fastidio ah ieri no l'altra volta hai sentito che le scuole chiudono e si fa l'azione virtuale sì cioè mandare anni compiti sono loro sono loro stanno qui sotto sì no ho fatto me l'hai fatto spiegare Un altro ci sbuca Un altro ci sbuca da un altro lato Fidati Sì ma che palle giocare arena così Siamo da 40 anni qui sopra Io non li voglio pusciare perché poi finisce male Davanti a me Aperto 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 è una shield Tieni Vai giù Siamo qua Stanno sopra Curati curati Io provo a dittare da qua Oddio Oddio Madonna Crippo Madonna E se vuoi Crippo Minchia Fra l'ho scelto in volo Porca mignota Fra l'olio Ho aperto la testa Andiamo 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 Oddio Eh andiamo Luttare Andiamo Luttare Deve Avesse Caduto No Sì Amazzo Amazzo Sono full Aferro Pigliate questo Che rimane Vieni qua Vai Pia di sto ferro No Non andare Non andare Che c'è Sopra le cose Lo scelto Fatto Voi lo spazio Ho preso Tutte le cose Ho preso Le cose Buone No 400 Vuoi lo spazio Comunque Pochi colpi Mitraglietta No 350 Io Adesso Sono full Legna E ferro Minchia No Fra C'è Quello Lì L'ho Aperto In Volo Porca No No Gli altri spezzazioni L'avevo cancellati Perché Siccome Continuavo A staccarla Io Ho Tre Medikit Tanto No No Fuck Volevo editare Che non voglio Sprecare Tre più mazzo Vabbè Spacchiamo Sto muro Lascio Cinque o cinque mediti Ho cinque mediti Ti ho Amiche me ne dai una e l'altra la piazza Eh ma vai più sopra Vai su Dobbiamo superare le montagne Vai 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 Ancora ancora Vabbè dai piazzala Madonna come glido Questo nuovo deltaplano Madonna sembra di andare molto pure C'è questo deltaplano Minchia Bellissima Cioè gli ho rotto la scala Ho sparato Ho fatto HS Ma me l'ho rotto Bellissima Sono arrivati in safe Con una jump Nimi Guarda quanto era lontano Lo sai da dove eravamo noi Abbiamo fatto un botto di metri eh Abbiamo fatto 600 metri bro Un botto Lì ci sta gente comunque Per forza Tengo il coso sull'air drop Eh sì c'è gente l'hanno aperto Quindi io ci abbiamo gente da lì Dobbiamo studiare Gente in volo 22 22 E te andranno in volo Che vuoi che facciano Fro Io Devo Mi chiede Sembra che non gioco Da due settimane Fai vedere un attimo Le senso Aspetta Boh Le sento diversa Di solito Di solito Mi piace un po' Tristorm Pelle roffiche Ecco Avevo detto C'è gente lì Quanto è Quanto è? 200 metri Qua si può fare che siamo sulle montagne No Dobbiamo trovare una posizione vantaggiosa Kaiser Vieni verso di me se vuoi Un bello top Pulito Oh Cattivo No Non salire Luca Luca Stai facendo un bordello Ma sei in fight È bianco? Bianchissimo come il latte Fra Porca troia Quanto mi piace Questo assolto Ho lei imbottaggi con quest'arma Comunque Luca Non stai più parlando Non so per quale tu Quali strani arcani hai ragionito Non parli Vabbè Un culo Ho preso Oh Jump Oh Che è che è Questo rumore Ah Gente lì Gente qui Ah Dio santo Santo Quanto sono forti Quanto sono forti Luca mi senti Oh adesso si Non so perché Mi aveva spostato in chat Parti Comunque ti ho aiutato Anche se non è attivo Sì lo so Lo so Ho sentito Più che altro Comunque è due kill gratis Perché quelli lì ci hanno pushato Sì lì ci hanno pushato in chat Sì lì ci hanno pushato in chat Ehm Ehm Spai che voglio vedere Voglio provare a capire un punto bello Togliti da qui Luca che devo vedere Ah lì sicuramente c'è gente Lì sicuramente c'è gente nel ferro Quindi quindi cosa Convera Ah Fai a vedere questo posto dov'è Eh fanculo Dirò Allora Dovremmo andare Lì Occhio per l'incertino Sì ho capito dove Madonna Franno Franno Uno Non ho aperto uno Madonna Me l'hanno fottuto Me l'hanno fottuto No Fra Andiamo a piedi Andiamo a piedi Fammi aprire qua Che magari c'è una jump pad Pingo E infatti c'era una jump E qua c'è uno scildone Tieni la jump Madonna Dimmi che c'è la faccia Ok c'è la fatta Top 7 Ah no Qua nel ferro non c'è nessuno C'è sta gente lì Gente lì Io ho quasi finito in massa Allora Vieni qua in safe Ci boxiamo un attimo Vediamo perché con la jump Possiamo salire in high Ma tanto Ho 110 di legno E pochissimi metalli Tieni C'è dentro 290 290 290 In realtà Fuck Fuck Uff Io sono 200 200 200 Mottoni Comunque draghi si sente basso Eh Non lo so Allora Allora Noi abbiamo le due jump Allora Questo punto Io jumperei qua Ne abbiamo due Io aspetta Usiamo la mia la tua Che non bisogna Due minuti di mentre Oh ci mira Ci mira quello lì eh Quello che va Togli 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 Tieni di qua Mi potevo dare Mi potevo fare 10 elcio Già Jumpiamo da qua Luca Che te ne pare Metto la jump Qua Eh Perfetta Andiamo lì Andiamo lì Andiamo lì Sì ho capito Andiamo lì Ci facciamo A piedi Fatto uno Fatto uno L'ho aperto Vieni qua Non è fuori safe Sì è fuori safe Bianco un altro Sto aprendo tutti Con questo Con lo Oh c'è uno là sopra Riesci a dittarlo 33 Frase Aspen Fra vieni Fra vieni a me Che da bocca Dobbiamo jumpare Da dove sono io Che tu hai un altro jump Da 200 di ferro E basta 200 di ferro E basta Ok Adesso 200 Vediamo Vediamo Un attimo La safe Allora safe Di sicuro non c'è nessuno Quali safe Qua possiamo stare I palmi Oh cazzo Oh Mettila Mettila qua Mettila 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 Aspetta Eh bro Semitati Siamo pure sul tetto Siamo pure sul tetto E tira un medikit Bronchio Non è facile Mettila Questa è più white del latte No fra mi stato il colpo Cazzo Nulla grosso Buono hanno visto 5 Non lo so Spassai Forse Controllo io Dalla live Aspetta Ne hai fatte Madonna Non si legge Ne hai fatte 4 Io ne ho fatte una Quindi 50 punti Di Bella bene Basta che Troppo Mi ricordo mai Il nome Della r Non mettono like Alla live Scusa No Ce ne sono 4 Tranquillo Mi piace un botto Quella r Quella è l'aug Ce ne avevo Anch'io No Quello che ho ucciso Io Madonna bro Però secondo me Se quel colpo Ti uscivi Vabbè Fa niente No Facciamo 1 2 Cile Voglio giocare Un po' Con MK Ok 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 no si la fanno è già stato confermato hanno mandato la comunicazione tanti che bello giocare con te rispetto con gli altri perché con te riesco a farlo c'hai visto quando ti si era disattivato l'audio che stavi sistemando la sensibilità uno l'ho chillato da solo e l'altro senza di te non ci avrei fatta eh sai perché l'hai chillato da solo perché l'ho laserato io ma che cazzo dici fra guardati la live quello che hai chillato tu ti prego guardatela si sarà fatti i pesci te lo giuro infatti io dicevo perché non parla Luca ne vedo uno che ti bilda in faccia e l'ho iniziato a laserare era tutto shield e allora aveva i pesci tieni volevo darla a te perché l'ar semplice più utile per il momento ok ma tu giacca l'arri puoi stare da lontano mi piglia almeno le needs devo andare a lottare per forza un'altra casa io ho bisogno di una R un po' io ho col PR hai notato che no 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 fa niente fa niente hai notato che è l'unico il game in planning in cui non si spama e rilancia no però non mi è piaciuto perché sembrava una scream vabbè le scream sono peggio però cioè arrivare a dover jumpare così le scream sono partite private sarebbero quelle dove si dichiudi nell'ultima save dove sei in 30-40 quelle per i plow sì ho detto plow sembrava uccine per i plow player quelli con i punti che ti servono privati? sì ma per gente più forte cioè loro si allenano veramente tanto cioè sono partite molto stressanti capitano sì ok tipo come la work up esatto che palle ho esatto per me possiamo andare a pushare sono a full legno sì io quasi più bella andiamo 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 stai c'era gente perché io non ne ho visto oh aspetta aspetta Luca Luca aspetta che lancio qua ho lanciato i miei miei cose così facciamo un po' di moz no io sono andata a luttare in questa casa che tanto non c'è molto ma c'è l'è andato qualcun'altra porco a parte noi no appunto è quello che mi sto chiedendo anch'io oh dove sono dov'è l'ulto degli altri miei cloni hai preso te? no non sempre lo danno e un po' di mozio voi hanno trovato uno non sempre lo danno e magari si è unita no? no si era al 55 mi sa che non è andato hanno andato si lì hanno andato lì mi sa ah giusto 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 allora non l'hanno andato mi scusa è stanza perché suoni il campanello? no no suonato il campanello c'è qualcuno allora non penso che dovrebbero suonato il campanello no dai scordi se trovi le nades che innamela ho trovato il lanciarazzi ottimo dalla me certo aspetta lascia le nades oh altre cose c'è gente? si si comunque ho sentito sparare te lo stavo per dire solo che ho sentito che fra 50 colpi r qualcosa? no ne sono 111 ah fanculo ti sei preso ancora sei spaventato forte? eh si ma perché ti so per dire c'è gente e quindi io credevo che ci avessero già busciato delle clonazioni aspetta coprimi un secondino ok non potevi venire in casa? no ho finito io ho le c4 e ho due cildini c4 da lì hai presi i colpi che ti hai dato? si dr non hai droppati sulla scala no quelli di pompa? no non te li ho chiesti e pure gli ti hai dato tutti i colpi? eh allora boh no aspetta ah infatti il trollone di merda stai rischiando Luca mi sa che hanno fixato e dei tre bot solamente due danno il loot l'avranno fatto con la patch e con la della streccia ad oggi perché infatti mi sa che molta gente sta usando questo trucchetto ok io sono full maz vorrei trovare solamente un R migliore perché se mi trovo l'aug pff devasto si come Robert e dobbiamo fare uno sticker Bobbi Bobbi dove sei? Bobbi vieni qua ma c'era una pozza di là? sii ce l'ho figata eh me la sono già fatta tanto l'ho trovata un'altra vabbè ma magari la stavi stoccando due scildini sto con io eh sto stoccando stoccando sei scildini ne ho cinque e io sei? quindi buttali tu no dai vabbè per cinque scildini me li tengo anziché tenermi lo scudo sono gay oh eh oh eh respect e cos'hai nell'altro spazio? tu quando pure resta tenermi lo scudo? una e le altre? eh ho uno C4 e cazzo ho preso il pompa in mano gente comunque ho una R pompa mitraglietta sicuro che ci sia gente si stanno a build e sono usciti da una barca quindi più sicuro di ma se sono lì fra che non sto andando tranquillo stavo per dire non partiamo alla stagnozzeria intanto dobbiamo andare in safe da un'altra parte quanto? 600 sono più vicino a 600 quindi 600 adesso siamo più vicino adesso siamo più vicino a 200 300 mi affanculo hai pingato più vicino no? comunque ho 100 col PR qua c'è tipo qualcosa da prendere un portale un'arma speciale dipende non è andato lì forse c'è la mitra potremmo trovarci la mitraglietta quella ah quella OP quella wow sì quella OP da 18 colpi come? ha la mitraglietta a fuoco ah sì qua ci ho stato no non c'è la mitraglietta perché 18 colpi abbassano il caricatore? e cos'è che usa? colpi piccoli? colpi piccoli cosa cosa cosa? è una telecamera ah mi hai fatto vendere un col al fratello di quelle che sparano tanto tanto ma scusate da quando è che le telecamere ritano? no le mitragliette la spacchi grazie è qua? è lì no è lì fuori fuori comunque c'è la safe ricordatelo vuole stare chilled il ragazzo pozza se ne troviamo un'altra le stock si sono io ma che cazzo cosa cosa? oh gattione wow 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 vabbè mi sto con le pozze ce n'è un'altra di là sa che siamo un po' morti no oh fuck si corri corri checco corri checco andiamo 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 ciò che stiamo a fare no che pale no che pale ma aiutano le telecamere io non lo sapevo che le telecamere ritassero telecamere più birichine oh gente gente lì boxata buildano sta davanti a me boxati non dobbiamo hittarle sono stato io sono chill chill saranno andando in safe loro andiamo di là lì ho visto 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 e il piccone è in here so we say we are needing luce ahia addio santo 47 ok li sto tranquillizzando sti bebè li ho hitati li ho hitati i chill chill calciatore rosso no però gli altri si ci buscano ok uno lo shield anche l'altro anche l'altro bianco ok uno fatto uno vieni 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 in braccia vieni in braccia oh no uno ne ho ucciso no no la mia live così non rompe il cazzo la mia live 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 chào nooo 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 serio era per lui aveva lo spas bella per è perché ti fa vedere la vita che aveva quando trittato ora sicuramente si sarà tutto più di vita non lo so facciamo pubblico metti coppie un attimino va bene dai uso il make up vai metti creative comunque poi sto salendo in aereo e si in aereo in arena piano ma in singolo togli di meno allora devo iniziare a fare singolo la tua divisione non toglie niente faccio singolo sicuramente soglierà di meno quindi allora devo iniziare a fare arena probabilmente sarei già a 1500-2000 anche avendo giocato poco è quello che mi sta togliendo adesso con te quindi giochiamo con mk signori sarà un pro player oh pro playerino io sono buga non hai capito fra dai vieni vieni che ti scasso buga agub sono agub ehi bella per tutti io sono agub cos'è box no non è box ma sei scemo io mi tolgo no io mi farei box ah è box aspetta faccio vedere una cosa in live questa applicazione qua ti fa avere meno di lei nel monitor è ottimo bisogna tenerla aperta aspetta che voglio cambiarmi musica metto la playlist di di netzok ma tu sei scemo forte no fra non mi chiedere anzi fammi andare la playlist chill in continua ce n'era una che aveva scordato bella mi sa che era questa ce n'era una bella madonna aspetta voglio solo mettere sta canzone e basta eccola qua cosa mi piace un botto ta no ah ma si fatico siamo tre a dire tre a due a giro guardalo che spam vabbè non è che posso fare più di tanto aspetta che ti fammi spostare tappetino ok madonna zio sto spreca mignotto ti hai tolto un botto ti hai fatto bene ti ha fatto capire chi è il più forte come fa questo amore a essere tuo bro guarda non ho gridato perché non posso gridare perché sono le dieci e mezza se no vai cacciato un urlo fra che mi hai fatto fare mi hai fatto cagare in mano io pensavo che tu l'avessi fatta apposta però ho sentito che gridavi tu pensavi si si no 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 io daca purista am vrei sa sunt vuta urmala de asta ai luo al cerigio tu si va perverti in mano uuuu pe granse mi stavo scendendo mongra classica ti chiama mongra ho una mappa di allenamento che mi ha dato il cristo perché c'è scritto qui c'è classica guardalo che ce ne va a sto i vengono uuuu pe granse mi 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 no fra c'è trappate c'è una cita di boga ah ma è mio diciamo che è un po' ingiocabile mi sa che dopo lo abbasso non mi riesce a neri allora perché mi do 400 punti ah ok grazie che c'è un bot guarda come hai visto no devo abbassare a senso ha detto che nella tua divisione inizia a togliere 4 in cingolo c'è dalla divisione 4 scusa no fra fra un attimo un attimo un attimo c'è un bastardo dai fra bro un attimo ti ho chiesto dai un attimo Luca mi fa vederla sotto il live ok ovviamente tu mi fai 200.000 oh No, mi era uscito Mongra Classic Guarda che l'ho fatto Sì, ma io sono abituato Con il capo del mio team, te lo sa fare E quindi a me c'è come rispondere Fra, non mi esce neanche un edit Fra, è che è difficile buildare tutto solo con i tasti Ah, che balla Oh, fanculo Spera, fammi prendere un attimo il pad Frendo il pad e ti faccio vedere la differenza Guarda cosa stai chiedendo Mi avrei dato del nabo Mi sa che perché ho cambiato il Come si chiama, il tempo di risposta Mi ti devo abituare No, no, posso resistenza a prendermi il numero Aspetta, vediamo Hai proprio ancora? Hai ancora da parlare? Ah Eh, va bene, nemmeno qua ho apposta resistenza Non so perché Ho preceduto per il salto Non mi fa metà Ok, non mi metterò la scala Tu fammi scendare Però, boh, io mi sento esenzia strana Io ti voglio editare però No, ti volevo editare dai Non ti ho sparato apposta Bello sparare Bello sparare, vero? Fraga, non mi entrano gli elite Come fai a mettere qua il pavimento mio? Scusa E questo? E questo? Sì, ok Il tratto 1 lo vinto io Ok, prendo Prendo il make up Sono del make up adesso Siamo fatte due Eh, sì, aspetta Volevo divertirmi un attimo a fare il make up No, mi ha chiesto se facevamo due iota Va bene Eh, cosa? Si vedeva lontano meglio Boh, perché si sono abbattati Abbassati gli spiegatori da 6 a 2 Ma va, tranquillo Va bene Chi vince questo perde tutto Chi vince questo perde tutto, capito? Si Fai un cuo Ti voglio vedere io Può buildare tutto con la tastiera No, non ci chiedi? O che ti mando la foto? Vai, manda Aspetta Aspetta che vado a collegare la tastiera E poi vado Ma si può? Da switch No Le sensità sono basse Ci riesco Ok, aspetta Aspetta, aspetta Lo faccio Lo faccio Ok, forse no Vabbè, ma perché con gli effetti al minimo Li senti di più Cioè, lo vedi di più È vero È vero Tu giochi Come se vuoi giocassi tu Epico Su, che ho vinto con 3DFPS E anch'io ho vinto 8 roundi con 3DFPS Eh, anch'io ho vinto 8 roundi con 3DFPS Eh, anch'io ho vinto 8 roundi con 3DFPS Cos'è che hai scritto? Non ho capito una scelta di ciò che tu hai scritto Sì Oh, scusa allora Mi dà un colpo al cuore Oddio, si sta disiscrivendo da mio Oddio No, non l'ho fatta apposta Ahah, metti Arena Dio, io, io, io Non si vede Filatini giù Gli te batti e ti scappi Almeno le giri Mi scelta Vai, scelta il sole Guarda, scelta il sole Guarda, scelta il sole Guarda, scelta il sole Scelta il sole Scelta il sole Scelta il sole Di un bacco di un robito Non può nemmeno giocare fuori Ci sono le brisquise Mentre in realtà è stato triste Perché è stato lasciato Dall'occhio Fra, metti Arena Ah, dobbiamo fare Arena? Ah, sì Voi, hai visto quanto è depresso a Roby? Hai visto quanto è depresso a Roby? No Dov'è, scelta il sole No 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 Luca, a te quando è che vuoi? Va bene, ci arriva uno che in teoria è nel Ryan Sì No, è femmina Cioè, è femmina però fa un po' di casino con rumore No, è vero, è col rumore, che cazzo ho detto? Fa rumore col microfono No, no, la lasciamo bella perché non fa cosa Nel mio pezzo non la dico all'Aido Che cazzo hai capito? Aspetta, ho capito il segreto È vero, sai che tipo quando mi sa col polsino per il polso che mi fa male Tipo Perché c'è il fumo in aria, what? Sono io che fumo Allora sei un boss Vieni in quadro Eh, però tu le armi non le prendi Che palle Ocio, ocio Lo so Sono io con la sopra Tieni in tattico Madonna Madonna Se vedo i passi E mica vedo i tuoi Vedo quelli dei laggi Quindi è ovvio che Tieni C'è uno che arriva di cosa Sono io, fuck Non sei te, madonna Ce n'è uno che arriva da di là Lo sento Lo sento Vieni tu Bop Con PR c'è gli Aiken Noi 30 No, non ne ho Trovati Vabbè non ho 44 Non ho 44 Ma quale è il segreto Di cui stai parlando Perché dobbiamo parlare Eh? Hai detto il segreto giusto Io ho detto Ma che cazzo No, frat No No, io non Tu mi Eh? Eh? No, frat Tu hai detto Ah, giusto Il segreto Ocio 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 22 Bravo 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 Finisci Oh bro Che cazzo Si dice No No Li ho lasciati io Giù Li uno Li uno Facciamocelo E dietro il benzinaio Mi sparano Mi sa che è entrato nel bagno Ah ma sono dei bot Sono dei bot No Quello no Fra io ho 20 colpi R Andiamo a pushare quell'altro che non era bot Andiamo nel bagno invece Va bene Corri Corri Devo entrare già con le build in mano Non mi ha portato Ma Ma dove siamo? No No Eccolo 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 ho fatto 60 quello data mi ero fatto mi ero fatto la pozza questo mitato e mi tolto la pozzola ma che la frase albero luca dai frasi insieme si chiama moderatore si ok fatto si puoi metterli in time out è tipo non lo so scrivono insultano tu li banni diciamo invito sarà spero no quinto 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 la lobby sarà non ci sai mi scrivi il tuo nome in chat mi ha detto in me out che figata mi ha detto in me out che figata moderatore fra togli l'audio dalla live infatti lo porto che palle fra lei lei ma sei no però luca non devi fare queste cose è piuttosto mi chiedi e ti spiegano e te l'ho chiesto però hai riuscito te l'avevo già spiegato mi rimetto in adoratore no no perché non lo faccio più no 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 luca dai però fra per favore perché c'è un blocco intanto che aspetto gioco a crancario dai sarà mandami la richiesta luca mi scrivi o cacchio scrivimi qui nei minciati per favore è nulla prossimo non so no perché non ha scritto nulla prossimo no c'è un cattivo bambino io ho sparato sparati in bocca no lascio il pesce guardatevi ora lo stacco alle 11 quindi se saranno arrivo è perfetto torno subito Grazie a tutti Stacco Luca perché tanto fra un po' anche io stacco alle 11 Siccome la scuola non c'è domani facciamo una live la mattina Sì ha sentito ma tanto come ti ho detto secondo me ti conviene lasciarli trovarsi un tema più serio Cosa? Attenzione sta per quittare il discord Dei si tre Ecco fatto 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 Mi metto una skin ignorante Sì ma il rapace che non lo uso mai Ho messo pronto in teoria A stata citta Ma io c'erano la skin Va bene a me va benissimo Beh ma strumento pagata la lezione virtuale Sì Mettila un po' intorno Secondo te nella lezione virtuale ci invieranno gli argomenti c'è anche tipo diciamo il fine orario scolastico C'è tipo il fine orario scolastico Dietro Detran No ha messo con una cosa da mille brutta aspetta Oh l'eropusi Com'è che ti chiamavi Luca sul tuo vecchio vecchio account Dragostro Ma tu l'avevi C'è l'hai riuscita a riaverlo vero? Sì sì ce l'ho ancora Ma perché non lo usi più? Perché Quello visto diciamo Intanto le sono subito vecchie Non le voglio di cambiarle tutte Ma dov'è che avevi più skin? Nell'altro o in questo? Qua Cioè nell'altro 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 Ma secondo me hai sbagliato Perché tipo ormai Cioè Eri riuscita a recuperarla Avevi tipo 3-4 skin su questo E te lo potevi avere Io me la faccio con MK Sì Sì mi ricordo Infatti tu poi Io gli ho già detto Ma scusa ma usa la No ti ho detto No vabbè fa niente Oh è davvero difficile fare le dettano ancora MK Eh penso io che le faccio un motto di volte e non riesco a farle da pad No fa che non ho saltato Su scemo No non ho mai saltato Questo è un po' te No sono già 4 morti Non ce la posso fare Sono stanco Oddio ce l'ho fatta No non va Eh ma stai calmo Ma non ho mai saltato Ma non ho mai saltato Ma non ho mai saltato Cioè devo pure al decimo livello Al decimo Ma non ho detto nulla Stai zitto Non salta fra Ma non mi prende il check punto Affan Perché Non ce la faccio Sono bloccata Il decimo livello Io sono al 21 Comunque devo iniziare di nuovo a usare le skin maschili Mi piace questo Devi cominciare ad usare Skin maschili anche Comunque mi sembra più facile fare le dettere anche le skin femminili Non so ma mi sembra Ma mi impressiona Sono più piccole Sì vabbè quello sì sì sapeva Cosa? Che palle Stai ancora reclando? Sì sono live Ok ho 14 morti Sì sono 20 anni La ristarchiamo? No Dai per favore L'ho avviato io No perché non mi dice più Comunque in game prima non so perché mi ha spostato nell'altro chat Non lo so io ricerco Non mi ha preso No adesso sono arrivato al livello Stai ci metto 20 anni Quello dove mi hai piponato Qua Comunque con le skin maschili mi sembra più difficile da trana Ma molto No no lo sto facendo da pad Ho smesso perché All'inferno No io sono un bimbo Sono un bimbo Studiato E quindi Sono un programmer Oddio Perché prima le voce Ah ok E ho zero cose Che livello sei? Sono 35 No No perché Ma prima di solito funzionava Fuck man Vabbè Non ci credo Sto facendo due livelli in uno Io l'ho fatto No what? Come è possibile il 35? Scusa Solipro Possono farlo Solipro riescono in questa impresa magistrale E ti ho donato i miei poteri da pro gamer Te lo giuro Di cui non avevo bisogno Di cui non avevo bisogno Bravo Ciao Ciao Come hai fatto? No Brossi Come hai fatto? Fare cosa? Fare cosa? Fare il livello 39 Non so quale sia Con le due trappole di fila Non so di cosa tu stia parlando Ma non so Ti giuro Non ho presente qua Due trappole di fila Eh ce ne sono tante trappole Aspetti vengo in aiuto Ma va si dietro di ma Vengo da te Eh devi saltare di fila Devi saltare Eh ma io non ce la faccio E devi farlo tutto noce Eh ma non ci arrivo No il mannini Aspetti No il cazzo Eh ho capito Lì non ti posso aiutare Safu Invece un po' come mi chiama Romano Safu Safu Romano Marco Volevo in classe con me No Sì Oh Non ti posso aiutare Non aspetarmi Il livello 6 42 mi so 44 so 45 Io sono ancora altre cose Cos? È invisibile sto What? Eh non lo sapevi? Eh io mi ricordo che lo facevo solo al lato Invece era tutto sei un scarsone in culo bella per gabbo c'è da bollaio signori proprio lui lomba si no bella gabbo come is in live non sapevo mi sa che la vis mi sa che arrivata la tipo la notifica qualcuno gabbo stavo facendo arena se domani mattina ci sei facciamo un po di arena o forse sei in montagna pure te stavamo facendo arena prima abbiamo fatto delle belle partite da bo ciao a ma allora se ancora il live sono tornato adesso dal ristorante ristorante indiano quando fai mi toccato mi buttato giù e indiano xd ho visto la notizia e fa bastardo comunque che abbostavamo giocando che abbiamo fatto delle belle partite con draghez io la sera tutti con l'augo fra mi ha tolto il coso mi ha tolto perché ah beh è vero ne ho 10 e basta so scemo anche io pochi gabbo perché stavo fatto solamente due non ho giocato in singolo quindi sai me li toglie comunque sei 100 tipo forse se facessi singolo bastardo ne avrei boh mi duemila 2.000 sarei perché continua cioè io li facciano per in due è difficile esatto allora domani se se mi sveglio presto la faccio da solo arena ha spesso livello me lo ricordo lo so gabbo io devo ne devo fare più singolo dai luca comunque se facessi più singolo misteri della fede devi andare sul secondo il primo non serve a nulla non so se ce la fai dopo domani dimmi se vuoi giocare ma devo ci alterniamo arena scuola così tanto domani domani penso di fare una bella live mattina più bello giocato che mi ha un abbetto preferito ma cosa sono stati che devi faccio fare una scorsa sì scorsa ma devo fare l'espo ma devo fare l'espo ma io sono andato un bel po di volte comunque ora siamo in creative gabbo perché siccome 60 ogni triste perché se avessimo fatto un'altra partita non avremmo finito non avremmo finito dai tu l'hai fatto 31 oh c'è c'è timo comunque perdi punti anche in arena eh c'è anche il simbolo no dai bro come hai fatto eh sono un no 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 ma sicuramente spiegamelo eh boh l'ho lanciata ho avuto sedere e basta no ho messato Marco ma sono il tuo nabbetto preferito ipod sì tu sì chi? 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 perego perego? faccio questo livello vado? ok oh shish kebab vabbè spra chiudo forno e ti vado a giocare a crancherio ciao domani ciao le sunshine le sunshine giochiamo un po' questo giusto una partita e poi stacco le sunshine ecco le sunshine ahia le orecchie di usanto dov'è l'audio di sto gioco vabbè c'è scritto audio qua no no master 1 ok show fps si vabbè non me la che mi frega tanto vabbè giochiamo così ehm mi hanno resettato i 6 set oggi però non fa un foglio vado c'ho forse a 2 anni ok comunque perego questo è un giochino che puoi giocare anche te se ti va è un giochino browser quindi non devi scaricare nulla lo digiti e giochi è carino è tipo call of duty diciamo con la grafica di minecraft giochiamocelo a schermo intero non c'è un'altra cosa via ma io voglio fare tct mi piace di più scuola è brutto oh mannaggia come mi piace un botto usare il make up che bello ma ricordo che un amico dice che sei legale ha detto che sei legale con l'auga ma allora è venuto il live ma se vuoi mi fa piacere perché se condividi ai tuoi amici con cui giochi a calcio no sono caduto ecco se è brutto di questa mappa si ma infatti il log è il mio arre preferito è tipo un famos però mi piace di più il rumore mi piace di più il merino molto più bello tua madre questo prima era più forte quel cecchino perché è la mia arma preferita questo giochino dimmi cosa te ne sembra questo gioco io tua madre la spera che me lo turno aspetta 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 se lo turno è tornato questo è scemo può sparare alle occhi comunque questo gioco cioè in teoria si può giocare anche col pad però non riesco a usarlo c'è proprio non me lo trovo il segnale quindi uso uso il make up almeno un giochino che posso usarlo ah è tutto il marco ok oh dio tua madre ecco la bagneria devo andare a portarla ma anche questo sembra forte mi sa che qua nello spawn che cam però che ti pare sto giochino cacchio questo arriva lo spawn se mi scivano scappavolte escono no vabbè ti piace giochino perego basta che digiti sul browser si pensa che scusa siamo intero perché non mi va f11 non mi va f11 ok digiti crunker e ti porta già dentro proviamo a ricaricare la page che voglio voglio trovare tutti contro tutti e stacco puoi giocare anche senza account io per esempio me lo son creato giusto per ottenere le mie sensi e tutto aspetta oh voglio scrivere un intero gioco perché non vabbè non mi funza l'f11 dai cioè ho sparato e finito il round carino perché eh la so Roberto che fai live eh però che ti sembro come ti sembro su sto giochino ma guarda che è carino ok adesso funziona l'f11 però comunque fammi sapere che è questo tuo amico magari lo conosco no aspetta devo mettermi il fuoco al massimo a me non mi interessa anche se mi ha ucciso io voglio il fuoco al massimo dove è il fuoco no non è questo schio io voglio jueci e sto io voglio l'ai vabbè giochiamo così boh non trovo il fuoco come si chiama? si chiama crunker.io crunker sorry la voglio farci vedere vabbè che balle dopo te lo faccio vedere un attimo lo puoi giocare anche te sul computer quando ti alleni basta che vai su google digit e ci sei oddio dove è il fov vabbè si contro non mi servono vabbè comunque il fove tipo me lo fa vedere da più lontano e mi piace di più giocare col fove non scopo e devo scaldarlo non ci gioca da un po' questo gioco a quale senso sballate comunque quando c'è più punteggio perché ho fatto a cast non ci gioca 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 non ci gioca